Un solo gol lo realizza di testa Riccardi, arriva dopo 60 secondi e condiziona tutta la partita del Cerignola che perde ancora nel campionato di Serie C. Perde anche a Latina dopo il K.O. interno contro il Crotone. Tre gare di fila senza successi per gli Ofantini che restano però in sesta posizione ma si fanno agganciare. Accuota 24 punti proprio dei Pontini e del Picerno. Crea tanto la squadra di Michele Pazienza ma non trova mai l'acuto dell'aggancio. Il tecnico degli Ofantini torna al 3-5-2 con i rientri in difesa di Blondette e Capomaggio, entrambi i titolari in avanti. Cenneglia al fianco di Malcore inizia col botto la partita dei padroni di casa. Carrizzoni crossa dal settore sinistro, Riccardi indisturbato colpisce di testa ed insacca le spalle di Saracco. 1-0 Latina che torna a segnare dopo ben 5 turni di astinenza. Fa fatica ad assorbire il colpo il Cerignola. Su schema d'angolo i laziali sfiorano il raddoppio ancora di testa con Fabrizi. Provano ad entrare in partita i pugliesi, lo fanno su corner. Per Cardinali è bravo a sbarrare la strada a Coccia. Altro giro, altro angolo, questa volta dalla parte opposta colpo di testa di Capomaggio. Ancora riattivo il portiere della Tina. Spingono i giallo blu, Neglia in venta, Tascone anticipa Malcore meglio appostato ma il tentativo acrobatico risulta impreciso. Ottimo momento per la squadra di pazienza. Ligi lavora per la conclusione con il destro di Neglia, Cardinali se la cava. Finale di tempo, ospiti ad un passo dal pari. Sainz mazza per Coccia, Coccia per Malcore che non inquadra per poco lo specchio dal limite e si dispera. Prima dell'intervallo torna a farsi vedere in avanti Latina ma Giorgini, calcia debole e centrale. 1-0 a metà gara. La ripresa si apre con i padroni di casa all'attacco. La ripartenza è interessante ma Carletti spreca tutto da distanza ravvicinata. Torna poi ad attaccare il Cerignola, Murato, il tentativo di Neglia. Poi Capomaggio chiama la risposta da autore Cardinali. Meriterebbe il pari la squadra di pazienza ma Malcore calcia tra le braccia del portiere avversario. Giallo per Giorgini, entra taccia ai danni dello stesso Malcore che poi offre un padrone davvero invitante per l'Angella. Mira imprecisa per pochi centimetri, può riscattarsi immediatamente il 33 del Cerignola ma si perde sul più bello tutto solo sul secondo palo. Su sponda, interessante dell'entrato da Andrea. Gli ospiti attaccano, i padroni di casa difendono. Russo propone un padrone interessante verso il centro ma da Andrea clamorosamente non trova l'impatto con la sfera. Resiste il vantaggio del Latina anche quando Capomaggio ci prova dalla distanza e Malcore gira debolmente di testa prima del novantesimo. Restano in dieci uomini, in pieno recupero i Lazzani per l'espulsione di Giorgini ma non c'è più tempo per evitare la sconfitta al Cerignola. Vince 1-0 il Latina, deve archiviare in fretta la sconfitta l'undicio Fantino e concentrarsi sul doppio appuntamento casalingo di fine anno. Dunedì 19 nel posticipo dell'ultima giornata contro la Juve Stabia, venerdì 23 nella prima di ritorno contro il Monterosi. serve una scossa, servono soprattutto gol e punti.